Un libro per ricordare un abruzzese e soprattutto anche un uomo che ha dato tanto allo sport mondiale. Parliamo di Rocky Marciano e parliamo con il collega Giuliano Orlando che ha scritto questo libro su Rocky Marciano. Primo libro su un pugile che resterà per sempre nella storia di questa disciplina. Sicuramente Rocky Marciano fa parte di quei fenomeni a livello mondiale assoluti che a distanza di oltre 50 anni non ha perduto nulla della sua fama tant'è vero che lo conoscono le persone di una certa età ma incredibile ma vero forse aiutati anche da alcuni film tipo Rocky Balboa eccetera che sono un po' la trasposizione errata di questa storia e mi sono sentito anche in dovere di scrivere questo libro personalmente nel 67 ho conosciuto Rocky Marciano a New York ormai aveva smesso, lui ha smesso nel 56 ed è stata una conoscenza molto importante perché mi ha fatto capire la grandezza di questo peso massimo che tutto sommato non aveva le misure dei giganti semmai il contrario e nella storia ultracentenaria del pugilato nessun campione ha fatto quello che ha fatto lui ovvero lui ha combattuto 49 volte ha vinto sempre 43 delle quali per KO e ha raggiunto un record che a distanza di 50 anni è ancora insuperato migliaia e migliaia di pugili hanno combattuto ma nessuno è riuscito a vincere per 49 volte consecutive tra l'altro da campione del mondo e smettere a pendere come si dice Guantoni al chiodo e non avere mai subito sconfitte la cosa importante però del libro non è solamente un fatto di record di numeri è la storia di un periodo che va dagli anni 20 agli anni 60 in cui l'Italia e insieme all'Italia anche altre nazioni europee dovettero emigrare per cercare un futuro migliore che in quel tempo l'Italia non gli assicurava non gli assicurava